Eccoci qui, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Gianluca, abbiamo di nuovo con noi Michele Pizzoni, un ospite gradito. Ciao, come stai Michele? Su bene, era un po' che non ci vediamo. Era da un po', mi fa molto piacere, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi. Sì, buongiorno a tutti, abbiamo chiamato Michele che mentre era assente non è stato lì a fare niente, nel senso che ha fatto un lavoro che volevamo presentare oggi, che potrebbe essere utile, diciamo così, nel monitoraggio del rischio epidemico. E niente, volevamo parlarne con lui oggi e farvi vedere che cosa aveva fatto. Poi dici tu Michele con chi l'hai fatto, tu ti credi? Certo, no, no. Prima che mi sbagli, cazzo. Ovviamente non l'ho fatto da solo, faccio da portavoce per un team numeroso, quindi ovviamente poi farò vedere tutti i contributi. Sì, sì, se vuoi dire perché l'avete fatto da cosa... Ma fondamentalmente l'idea è che ovviamente c'è in questo periodo, c'è stata nell'ultimo mese, ormai vedendo anche l'andamento della curva epidemica, grande discussione su cosa riaprire, riapriamo gli stadi, quante persone ci possiamo permettere di mettere insieme in un evento, qual è la capienza a cui possiamo limitare teatri, cinema, possiamo aumentarla. E questo tipo di domande ovviamente sono domande che sono state fatte a tutti i livelli, ai livelli più alti del governo e della politica per decisioni appunto come quelle sugli stadi, ma sono in realtà poi domande che ci facciamo anche noi come persone comuni tutti i giorni, per dire voglio fare una cena con 20 amici a casa mia, la posso fare? È rischioso? Allora, quello che abbiamo fatto è diciamo uno strumento molto semplice che dà un po' un'idea di qual è appunto il rischio associato a eventi di una data dimensione. Il rischio inteso come, questa è la cosa importante da dire subito, inteso il rischio di avere almeno o trovare almeno una persona infetta in un gruppo di X persone. E quello che in realtà è la prima cosa che va fatta notare è che questo rischio, cioè la probabilità di avere almeno un infetto in un gruppo di X persone, non cresce linearmente con il gruppo di X persone, questa è la prima cosa per chi vuole entrare un po' subito nell'aspetto matematico, ma cresce appunto con esponente X e quindi chiaramente se possiamo immaginare che con 3 o 4 persone il rischio sia relativamente basso, quando pensiamo di mettere 20.000 persone in uno stesso posto, questa probabilità di che almeno una di questi strumenti diventa rapidamente molto alta a partire da cosa? Da sapere quanti infetti ci sono nella popolazione. Questo ovviamente è l'input del nostro tool, del nostro strumento. Ora, l'idea in realtà, prima di tutto, è importante per ammettere, non è un'idea né mia individualmente, né del gruppo di ricercatori di Fondazione Easy e North Eastern University, ma originariamente chi ha sviluppato per primo un tool identico, ma negli Stati Uniti, si chiama Joshua Weitz ed è professore a Georgia Tech, un professore di biologia, di epidemiologia e lui appunto aveva già sviluppato una piattaforma simile che si chiama COVID-19 Event Risk Assessment Tool e che dava queste stime di rischio per le conte americane, la resa pubblica già a maggio, se non sbaglio, di quest'anno. Quindi fondamentalmente, proprio parlando con lui in realtà, parlando con Joshua Weitz, abbiamo pensato che fosse una buona idea semplicemente trasportare il metodo sull'Italia e poi in generale sui altri paesi europei, stiamo cercando di allargarla a tutti gli altri paesi d'Europa, diciamo tutti, con quelli su cui anche poi abbiamo accesso ai dati, perché una delle questioni fondamentali è avere dati aggiornati frequentemente su il numero di nuovi casi con una risoluzione geografica ragionevole, perché ovviamente non guardiamo il rischio a livello di tutta Italia, non avrebbe senso in questo caso. Allora lavoriamo a livello di provincia e poi ovviamente questa è una... Scusami se ti interrompo, avete il quadrante solito 10x10 chilometri o no? Perché dipende dai dati che avete. No, no, i dati... no, guarda, questo è molto molto semplice, cioè non c'è nessun modello, c'è nessun modeling complicato, nessun modello epidemiologico, non c'è nessuna mobilità in questo caso, io ho lavorato molto sulla mobilità, ma no, in questo caso stiamo solo usando i dati della protezione civile. Ah sì, certo, certo. E guardiamo a livello provinciale, no? E quindi per le 5-7 province italiane guardiamo quanti sono il numero di nuovi casi riportati negli ultimi 7-10 giorni per ogni provincia. Questo in rapporto alla popolazione ci dà un'idea di quale può essere l'attuale prevalenza, cioè quale può essere il numero attuale di infetti che ci sono in giro nella popolazione della provincia. E a quel punto poi considerando anche un eventuale fattore di cosiddetto under-reporting, di sottostima, cioè noi sappiamo che sono stati riportati un certo numero di contagi, ma non sono tutti, perché inevitabilmente la sorveglianza non trova tutti. Quindi tenendo conto di questo, tenendo conto della dimensione dell'evento che stiamo prendendo in considerazione, andiamo poi a fare un calcolo che è una formula matematica molto molto semplice, basata su appunto una distribuzione probabilità binomiale, qual è il rischio che almeno uno di queste persone, in un gruppo di 100, appunto X persone, sia anche positivo al virus. E quindi questa è appunto l'idea di base molto semplice, partita da Joshua Weitz, che noi abbiamo esteso all'Italia. Però è appunto molto semplice, ovviamente anche lì, quando l'ho presentata su Twitter, alcuni commenti ovviamente vanno nella direzione di dire, no, ma si può raffinare, si può avere una, migliorare la cosa. Cioè scusami, fermati, ti hanno insegnato. No, senza essere troppo arroganti, ma comunque no, no, scherzo. No, qualcuno però diceva, no, ma mi scriveva, no, tu che lavori su complex networks, si potrebbe fare qualcosa di più in cui la probabilità non è semplicemente il calcolo di una binomiale, no? Questa probabilità di avere almeno un effetto. Perché una delle questioni fondamentali è, distingue il fatto di qual è, allora, qual è il rischio di, Allora, noi calcoliamo il rischio che date X persone, con un numero che può essere tra 10 e 20 mila e l'utente sceglie liberamente, almeno una di queste sia SARS-CoV-2 positiva. Ovviamente questo non significa che se io mi ritrovo un evento con X persone e c'è questo rischio di dire che almeno una sia SARS-CoV-2, poi io sia in contatto con queste persone positive. Cioè, il rischio di essere contagiati dipende da molti altri fattori di cui noi non teniamo conto perché non vogliamo calcolarlo, non vogliamo calcolare il rischio di essere contagiati perché questo dipenderà dal fatto che l'evento sia fatto al chiuso, all'aperto, le mascherine. C'è la mascherina, non c'è la mascherina, qual è il... E ovviamente l'altra cosa è proprio il tipo di contatto che puoi avere con le persone. Allora, se sei in un evento di 20 mila persone, il rischio di essere contagiato dipenderà anche di quali e quanti sono i tipi di contatti e per quanto tempo durano i contatti con le altre persone che ti sono intorno che poi non saranno ovviamente tutte 20 mila. Quindi ovviamente c'è tutta questa componente di contact modeling, diciamo, che rientrerebbe in un discorso per cui uno, se uno volesse andare a vedere, andare a calcolare il rischio di essere contagiato. Ma quello diventa un conto che veramente implicherebbe un numero 3 di assunzioni aggiuntive, e già noi ne facciamo alcune importanti per uno scalcolo, che lo renderebbe assolutamente troppo sensibile alla miriade di scelte che uno può fare e quindi quando appunto questi commenti dicono che si può raffinare questa stima. Sì, si può raffinare al costo però di aggiungere altre 3 o 4 assunzioni su il tipo di contatti, sulla durata dei contatti, eccetera, che sono assunzioni totalmente arbitrarie, diventano veramente totalmente arbitrarie e alla fine fanno perdere completamente di utilità il numero che viene fuori. Sì, certo, per quello scusami che tutti i modelli EPI fanno milioni, miliardi di run con gli intervalli di confine. Fanno miliardi di run e poi ovviamente fanno delle assunzioni sulla distribuzione di come avvengono i contatti, che sono cose che vengono prese da studi molto specifici su effettivamente i contatti, però questi vengono integrati dentro i modelli, cioè ci sono stati e anche poi durante la pandemia sono stati fatti studi molto specifici su quali sono le distribuzioni di contatti tra classi d'età, tra gruppi di persone in contesti diversi tipo le household, tipo le case o per i luoghi di lavoro. Questi risultati in genere vengono incorporati dentro i modelli epidemiologici in un tool come il nostro non ha senso perché noi vogliamo mostrare qualche cosa che sia comprensibile e relativamente semplice da usare e che dia sostanzialmente un'informazione molto semplice e molto diretta. Cioè la domanda che ci facciamo è dire ok, io domani sono stato invitato a andare a una festa di matrimonio che si terrà, non lo so, immagino una provincia a caso italiana a Livorno, ok. A Livorno a una festa di matrimonio, oppure no, dove in Toscana da te è grossetto, ma ci sono 200 persone. Qual è la probabilità che tra queste 200 persone ce ne sia almeno uno che sia positivo? E l'idea è che questa probabilità dipende da quanti infetti ci sono in provincia di Livorno e sostanzialmente qual è il livello di underreporting, qual è la sottostima attuale? Cioè, quindi gli infetti che abbiamo in provincia di Livorno sono quello che mi immagino, che assumiamo, che gli infetti che ci sono in provincia di Livorno sono proporzionali al numero di infetti che abbiamo visto negli ultimi 7-10 giorni. E quello è il periodo di infettività, no, del più o meno del virus, considerando il periodo di infettività è il periodo anche in cui è necessario identificare i casi e con, per un certo fattore, che è una sottostima. Per cui, diciamo, in questo momento in una determinata provincia, penso come minimo avrò un numero di casi che è dello stesso ordine di grandezza del numero di casi riportato negli ultimi 10 giorni. Perché sono i casi che vedremo nei prossimi 10 giorni, no? Questa è la parte di baseline che è abbastanza ottimistica. Cioè, i casi che vedremo nei prossimi 7 giorni, riportati dalla sorveglianza, sono attualmente infetti adesso, stanno sviluppando, stanno per sviluppare sintomi e sono più o meno lo stesso numero che abbiamo visto nei passati 7 giorni. In più, però, mi aspetto anche che qualcuno ce lo siamo perso e ce lo perderemo. E quindi moltiplichiamo questo numero per un fattore 2 o nel peggiore dei casi, questa è una scelta per l'utente, in un fattore 6. Perché l'indagine stereologica Istat, pubblicata questa primavera, rilevava che a marzo, più o meno in Italia, veniva identificato un caso su 6. Quello, ovviamente, è una situazione molto pessimistica. Cioè, sappiamo che a marzo veniva effettivamente riportato un caso su 6 e magari all'inizio dell'epidemia ancora di meno. Cioè, se noi andiamo a prendere, come dire, la prima settimana di marzo non era un caso su 6. Ok, perché, diciamo, eravamo veramente all'inizio, il virus circolava ampiamente e lì probabilmente eravamo un caso su 10. Però, in media, alla fine, nel corso di tutta la prima ondata, l'Istat dice abbiamo visto un caso su 6. Allora, se in questo momento fossimo un caso su 6, ok, noi possiamo aggiustare questa stima in base a quello. E poi abbiamo, come ho già detto, la dimensione dell'evento. Questi sono gli unici tre parametri, diciamo... Infatti è un modellino che è semplice per l'uso, cioè non da fare, tendo a dire. Sì, no, ma è anche abbastanza semplice da fare. Non stiamo parlando di, veramente, di rocket science. Però è, diciamo, di un'utilità, la speranza e l'idea che sia di un'utilità pratica e immediata, nel senso che, diciamo, si vedono subito anche... Poi, ovviamente, il dato che sta alla base è la prevalenza riportata e quindi nei contesti... Cioè, vediamo subito, per esempio, quali sono le province che sono più colpite. Insomma, se un po' se ne parla. In realtà penso dalle... Anche dalle dashboard della protezione civile magari non è così immediato, però con il nostro tool si vede subito che abbiamo delle differenze sostanziali tra, per esempio, la provincia di Novara e il resto del Piemonte, dove Novara, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ha riportato un notevole aumento di casi in proporzione alla popolazione. Ovviamente, come anche viene riportato nelle notizie, Napoli e Caserta hanno dei numeri molto elevati rispetto al resto della campagna. Abbiamo, ovviamente, anche lì, sappiamo ormai da parecchio tempo, Genova e La Spezia, sono un'altra zona particolarmente a rischio. Vedo anche, appunto, Trento, Belluno, Treviso, in cui i numeri sono abbastanza alti. Nell'ultima settimana saltano fuori anche Pisa, per esempio. Magari, scusami, lo vuoi far vedere, no? Mentre ne parli, così facciamo vedere come... Sì, hai ragione. Facciamolo a vedere, infatti. Adesso poi metteremo sotto il link del video. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, quindi questo è l'indirizzo, covid19eventi.datainterfaces.org. La piattaforma l'abbiamo chiamata Eventi e Covid-19. Come dicevo prima, qui sulla sinistra abbiamo questa dashboard in cui possiamo scegliere questi tre parametri. La mappa mostra una stima dei rischi di essere esposti al virus SARS-CoV-2 sulla base del numero di persone che partecipano a un evento. Quello che calcoliamo è il rischio, come la probabilità che almeno un individuo positivo sia presente all'evento. Abbiamo qui la mappa delle province italiane e qui possiamo scegliere la dimensione dell'evento, quindi va da 10 a 20.000 persone. Questa finestra, diciamo, di, chiamiamola, periodi di infettività, che, ripeto, ci dà un'idea di l'assunzione che vogliamo fare, capire quante persone sono infette attualmente, se vogliamo immaginarle più proporzionali a quelle infette negli ultimi sette giorni o negli ultimi 10. Negli ultimi 10 ovviamente i numeri saranno maggiori, le stiamo sommando tutto. E infine, un fattore di underreporting, una percentuale di infezioni rilevate, che sia una su due, nel caso, diciamo, più ottimistico, ragionevole. Cioè, vediamo un infetto su due, direi che è difficile che sia meglio di così, possiamo sperarlo, ma considerando anche tutti gli asintomatici, molto difficile. E una su sei, che è il caso Istat. Andiamo qui per le province. Allora, in questa situazione, al momento, sto guardando queste probabilità per 50 persone, prendendo gli ultimi 10 giorni di casi riportati, è appunto la situazione uno su due. E vediamo come appunto abbiamo qui Novara, probabilità che ci sia almeno un infetto in un gruppo di 50 persone, 6%. Alla Spezia, all'8%. Qui nel box in alto vedete anche qual è questo numero di infezioni rilevate. Quindi, Alla Spezia, per esempio, negli ultimi 10 giorni, sono stati riportati 189 nuovi casi. E la popolazione della provincia di La Spezia è 220.000 persone circa. Quindi, ovviamente, questo anche conta molto su che popolazione stiamo guardando. Questa probabilità, alla fine, dipende da questa granularità. Allora, ovviamente, per esempio, le differenze all'interno di ogni provincia, ci saranno poi delle differenze locali ulteriori. Cioè, la città di La Spezia non avrà lo stesso rischio delle campagne, delle zone meno popolate. Noi non abbiamo i dati per andare a una granularità maggiore, non possiamo arrivare a livello di comune. Appunto, partiamo da questa risoluzione spaziale. Quindi, come dicevo prima, in questa mappa vediamo appunto come viene distribuito il rischio. In questo momento abbiamo queste province, Novara, come dicevo prima, anche Venezia, che appaiono su questo range. Siamo tra il 5 e il 10% in queste province. Mentre invece tutte le altre sono sotto il 5%. Sud Italia, tipo Calabria, invece, va sotto il 1%. Qui veramente i casi riportati sono molto pochi negli ultimi 10 giorni. Quindi, possiamo dire, rischio è sicuramente minore, ma poi se torniamo a Palermo, ritorniamo al 5%. La Sardegna, per esempio, in Nuoro, 11%. Quindi, praticamente, è la provincia con il valore più alto in questo momento. Ovviamente, possiamo aumentare la dimensione dell'evento. Scalano queste probabilità in proporzione. Come ripeto, scalano non linearmente. E quindi, questo anche dà un'idea, se qualcuno si chiede, come mai la scala di colore varia tra 0 e 100 con questo cosiddetto beaming, con queste variazioni, dove ci sono molti colori diversi per valori piccoli e poi, in realtà, abbiamo un unico colore per il 50 e 99%. Beh, proprio perché questa variazione di brischio non è lineare con la dimensione dell'evento. Quindi, in realtà, variare la dimensione dell'evento fa sì che ci siano delle variazioni non lineari nel risultato finale. E dato che noi consideriamo un range molto ampio di dimensione degli eventi, tra 10 e 20 mila, ci si trova a dover lavorare sia con percentuali molto, molto basse, perché quando siamo su 10, praticamente la percentuale è ovviamente piccolissima, praticamente dappertutto, l'1% più o meno. Quindi, stiamo comunque parlando di percentuali piccole. se andiamo a 20 mila, questo è l'altro messaggio abbastanza chiaro, che, ok, vogliamo mettere 20 mila persone tutte insieme e qui conta poco, cioè, forse, a Crotone, 50%. Ok, a Crotone abbiamo il 50% di probabilità. Sì, tra l'altro, scusami, Crotone ha po', perché, cioè, giocano in serie A. Però, esatto, a Crotone, forse, però stiamo comunque parlando del 50% di probabilità che almeno una di queste 20 mila persone sia infetto. Nel resto d'Italia è 100%, cioè, se noi prendiamo 20 mila persone in una provincia, e siamo sicuri che ci sia almeno uno che è positivo al Covid in questo momento. Poi, ovviamente, qualcuno dirà ah, no, però con 20 mila persone mica vai a... non è che tutti si baciano e si abbracciano tra di loro. Sì, però comunque è importante partire dalla consapevolezza che lì dentro uno positivo ci sarà e a quel punto adottare misure adeguate e immaginare, appunto, il tipo di comportamenti e che cosa possono produrre. Sappiamo che in certi contesti, in certi ambienti, appunto, il Covid è una diffusione di SARS-CoV-2 e avviene anche con fenomeni di super spreading, e quindi ci sono situazioni in cui anche un solo infetto contagia altre 40 persone. Insomma, nella letteratura si sono viste e si sono riportate. Sì, nella letteratura anche recente negli Stati Uniti. Esatto, sì. Esatto. Di chi stai parlando, del boss numero uno? Del boss, quindi quello lì che ha il cappello dello stesso colore della mappa di Michele. Allora, aggiungo qualcosa ancora su questo, che appunto in questa tab mettiamo informazioni, sono le cose che ho raccontato io, appunto, che scrivono come calcoliamo questa probabilità e che questa probabilità non è una probabilità di essere contagiati. Ecco, non stiamo dicendo che se vai a un evento di 20.000 persone hai il 100% di probabilità di essere contagiato. No, hai il 100% di probabilità che ce ne sia almeno una di queste infette. Poi, ovviamente, la dinamica del contagio dipende da molti altri fattori. L'altra cosa è che, vabbè, descriviamo meglio qui, un po' più in dettaglio, qual è il metodo, questo calcolo che ho cercato di raccontare prima, che è fondamentalmente basato su, appunto, distribuzione binomiale e in realtà, per essere precisi, in realtà stiamo approssimando con una binomiale una distribuzione ipergeometrica, se qualcuno è interessante la vuole entrare nei dettagli, però comunque è l'approssimazione buona per i numeri che stiamo guardando perché finché il numero di infetti è relativamente basso rispetto alla popolazione totale e poi, come dicevo, alla fine, giustamente, questo è un lavoro fatto in realtà da molte persone e di cui io, in realtà, ho fatto praticamente niente. Sicuro, proprio. Questo gruppo di ricercatori di fondazione ISI, Corrado Giovannini, Daniela Polotti, Marco Quaggiotto, fondamentale, che ha sviluppato tutta l'interfaccia web e questa in realtà è veramente la parte importante, per fare il sito, Marco Quaggiotto, che lavora al Politecnico di Milano e anche a Fondazione ISI, poi sono io e Luca Rossi, poi abbiamo fatto insieme anche ad Alessandro Vespignani, a North Eastern University, a Matteo Chinazzi e poi Joshua Weitz, che, come dicevo, in realtà è l'ideatore di questa cosa. Ma quella di Weitz, scusami, è quella lì con la mappa americana con i rossi, no? È quella, vero? La device è questo, su una mappa con i rossi, lui ci mette, devo dire, mi posso vantare, ci mette un po' di più a caricare. È vero che gli Stati Uniti sono molto grandi e deve caricare più di 3.000 contè. Queste sono le contè degli Stati Americani. Allora, lui ha fatto delle scelte un po' diverse, per esempio, fondamentalmente per gli Stati Uniti Weitz ha pensato che l'under reporting da scegliere sia o 5 o 10, che è un fattore 5 o un fattore 10, che sono fattori molto alti, cioè stai dicendo guardate, stiamo prendendo solo un caso su 10. Per gli Stati Uniti però magari può essere, poteva essere credibile, adesso non lo so, effettivamente il testing ha aumentato moltissimo, però può essere comunque credibile che ci sia un fattore di under reporting abbastanza elevato. Sicuramente 10 era un fattore confermato anche da altri studi a marzo. Per gli Stati Uniti il livello di under reporting dei casi era sicuramente un fattore 10 o 15 all'inizio della pandemia. Poi ovviamente come in tutti i paesi, come in Italia il testing ha aumentato moltissimo. La dimensione dell'evento per Weitz arriva a 10.000 al massimo e niente, non ha poi da scelare. Anche qui vedete com'è, ok, con 10.000 persone in tutti gli Stati Uniti la probabilità di avere almeno un effetto in tutte le conti americane è 100%, tranne alcuni posti più remoti. Vabbè, sappiamo che qui nelle regioni appunto di... Cioè nel deserto dell'Arcaso? Qui, in queste contee montuose desertiche riscreve almeno del 1%. Però nelle grandi zone metropolitane ma anche in generale insomma in tutto il resto la percentuale è sempre sopra il 99%. Ripeto, qui abbiamo messo 10.000 persone ovviamente a livello estremo. Questo lui appunto era già uscito a maggio. Qui insomma dà un'idea per esempio comunque questa mappa dà bene un'idea dell'attuale situazione di prevalenza dei Stati Uniti no? Perché poi anche qui facevo prima il discorso per l'Italia. Negli Stati Uniti c'è molta attività in questi stati del Midwest come appunto North Dakota South Dakota qui il rischio cioè qui stiamo guardando un evento con 50 persone risk level 98%. Quindi Montana questi posti che erano che erano luoghi sono luoghi molto remoti dove sappiamo che vivono poche persone e erano stati abbastanza risparmiati dalla dall'epidemia questa primavera però alla fine questo qui ritorno su un tema la gente si muove e alla fine dal New York arriva fino in Montana cioè per quanto in Montana sia lontano e poi c'è stato il lockdown appunto le persone hanno viaggiato di meno però poi alla fine il virus arriva anche qui e poi alla fine si diffonde e ovviamente raggiunge anche i posti più più remoti quindi abbiamo chiaramente South Dakota Montana li vediamo bene vediamo anche Wisconsin che sta avendo molti casi e comunque anche zone più popolate abbiamo Kansas Missouri esatto Iowa insomma questa zona lungo Mississippi comunque vedo appunto si vede chiaramente che ci sono molti casi il sud degli Stati Uniti ancora comunque anche in alcune zone del sud c'è un'elevata attività ancora poco per fortuna nel 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 nord east però sappiamo anche che comunque anche lì sta un po' riprendendo in questo momento però comunque anche qui New Jersey sta iniziando tipo Ocean County sta iniziando a riprendere l'attività epidemica purtroppo e quindi insomma anche se i livelli sono più bassi che altrove chiaramente rimane importante far attenzione perché non avevo non avevo scusami si interrompo non avevo l'idea plastica proprio di una percentuale di una percentuale cioè uno su cinquanta è è il due per cento no? di prevalenza attiva a sette giorni no? più o meno cioè di popolazione infetta nel momento in cui la guardi no? cioè è proprio attiva in quel modo sì considerando però esatto di avere un singolo di avere un singolo è quella probabilità lì esatto veramente non è poco sì cioè che ongoing diciamo il due per cento della popolazione ongoing finché non prendi delle misure diciamo per cui la fai scendere certo diciamo in varianza di policy quello vuol dire che ogni sette giorni il due per cento di persone è infetto no? cioè finché non dici basta i bar o basta qualcosa o che cazzo ne so diciamo che qui quello che gioca un ruolo importante è che tu stai dicendo che la popolazione che io gli infetti che io vedo sono lo 0,2% ma c'è un fattore 10 che questo ovviamente è certo lì anche report sì certo certo lì ovviamente ti preoccupa molto perché stai dicendo ok se ci stiamo perdendo un caso su 10 questa è la situazione certo allora ora io non lo so non conosco molto da vicino tutto il livello diciamo soprattutto anche lì c'è un'altra forte assunzione no? che questo livello di under reporting uno su dieci sia uniforme ovunque no? di cui stiamo facendo un cross the board uno su dieci ora questo in realtà dipenderà da county a county qui stiamo guardando le county come per l'Italia per le province io penso che sia abbastanza ragionevole che in realtà il livello di under reporting sia uniforme abbastanza uniforme su tutta Italia cioè come dire ci saranno ovviamente delle differenze però non delle differenze così grandi non è che in certe regioni vediamo uno su due e in altre regioni ne vediamo uno su dieci anche perché le dinamiche poi emergerebbero in maniera evidente no? perché a un certo punto però questo questo non me lo aspetto in Italia negli Stati Uniti essendo un un paese così vasto con sistemi poi di di salute pubblica statali molto molto differenziati dove poi sappiamo che le politiche di ogni Stato sono i governatori che decidono queste fanno queste scelte possono effettivamente portare a delle discrepanze per cui magari in certi Stati abbiamo veramente un fattore di under-reporting dieci perché qualcuno dice vabbè non facciamo i test perché se testiamo troppo troviamo troppi casi tipo la Florida no? via tutti liberi e chi se ne frega però in altri ovviamente sappiamo New York è uno Stato in cui sono state prese tutte le misure in seguito alla situazione drammatica che ci è stata a marzo la risposta sta molto forte mi immagino che il testing sia adeguato e non si perdano un caso su dieci ecco questa è la mia risposta senti Gianluca io voglio fare una domanda Michele a te a Michele perché una delle nuove questioni che sta venendo sempre più alla ribalta diciamo nella pubblica discussione è questa famosa come sempre soglia di herd immunity T-cells mica T-cells Michele tu che segui magari meglio di noi anche tutto questo tipo di letteratura ci puoi dire come stanno effettivamente le cose cioè è vero che per spiegare un po' la questione in maniera corretta allora io ok provo a spiegarlo poi è dibattito diciamo e fa parte del dibattito scientifico attuale cioè effettivamente è una domanda di ricerca aperta attualmente in realtà penso per certi versi Gianluca probabilmente ormai ne sa anche più di me visto che hai retweetato questo paper di Mark Lipsic che paper di Mark Lipsic aspetta che smetti di condividere lo schermo però che questo paper di Mark Lipsic che ha fatto una overview su questo problema cioè questa domanda di ricerca allora diciamo così il punto di partenza innanzitutto è capire cioè intenderci cosa vuol dire Ardimiunti di cosa stiamo parlando in diciamo l'epidemiologia matematica e si può dire diciamo ha avuto un momento fondamentale la prendo un po' la lontana però per arrivarci brevemente diciamo nel 1927 hanno Kermak e McKendrick due ricercatori due professori hanno pubblicato questo modello modello SIR modello che è molto semplice che descrive una dinamica epidemica ed è stato diciamo questo milestone una tetra miliare perché è un modello che è stato da lì utilizzato per utilizzato ormai da un secolo per descrivere processi di diffusione epidemica il modello è splendido perché in realtà si basa su una descrizione semplicissima della popolazione abbiamo i suscettibili gli infetti recovered i guariti R saprecore i guariti e ci sono tre equazioni differenziali che descrivono l'evoluzione dinamica di questi tre gruppi si assume che un'intera popolazione di persone sia divisa in questi tre gruppi e fanno il totale della popolazione non cambia mai e però sono tre equazioni differenziali accoppiate che però per il fatto che siano accoppiate innanzitutto è molto interessante perché la dinamica non sono risolvibili in maniera analitica non si trova un'espressione analitica per dire come va i nel tempo come va s nel tempo si può fare solo approssimando con delle approssimazioni oppure si integrano numericamente questo è l'altro approccio e poi una delle cose bellissime di questo di questo modello è che dice una cosa molto semplice però potente cioè che esiste una dinamica di soglia per cui se i parametri di trasmissione e di guarigione il rapporto tra questi due supera il valore 1 che è questo famoso R0 il reproductive number allora l'epidemia ha una crescita inizialmente esponenziale ma inizialmente l'esponenziale sta solo per ti che tende a zero cioè per ti iniziali questa è un'altra cosa che molti si dimenticano cioè non esiste una crescita esponenziale per 10 anni perché nessun modello epidemico prevede quello esiste una crescita esponenziale nella fase iniziale e se invece stanno sotto non c'è crescita l'epidemia muore da sola in più bonus da questo risultato è che in realtà se se una certa gruppo di persone partendo dai n iniziali persone iniziali se una frazione uguale a 1-1 su R0 è removed inizialmente o è già guarita allora l'epidemia non parte più cioè fondamentalmente ci stai dicendo che una volta che tu hai questa soglia raggiunto questa soglia cosiddetta diciamo di hard immunity cioè una parte della popolazione che tu puoi calcolare questo modello ti dà un valore ti dice che questo valore è 1-1 su R0 allora se questa frazione di popolazione è già guarita in qualche modo non può essere infettata allora l'epidemia non partirà e questo è il concetto di base su cui si basa la vaccinazione cioè perché vacciniamo le persone perché prendiamo una certa percentuale della popolazione la spostiamo direttamente nei recovered nei guariti li facciamo guarire prima che sia male no cioè questo è il discorso facciamo in modo che siano già guariti hanno già gli anticorpi non si possono più ammalare automaticamente questo manda l'epidemia sotto soglio ora quanto vale questa percentuale dipende è molto potente perché dipende da un unico numero che è questo R0 cioè se io posso R0 della malattia posso calcolare questa percentuale allora ci sono malattie ad alta trasmissibilità per una malattia ad alta trasmissibilità R0 può valere anche tipo 13 come la varicella o 18 questo significa che la frazione di persone da vaccinare è praticamente il 100% per ottenere questo effetto per esempio una delle cose famose cioè perché si parla del 95% questi target che vengono messi dall'istituto di sanità dagli istituti di salute pubblica il target vaccinale è il 95% viene da questo numero qua dobbiamo vaccinare il 95% per il morbillo perché il morbillo avrà un R0 che è tipo 6 7 1-1 su 6 adesso ovviamente saranno i costi sbagliati però è abbastanza alto dobbiamo arrivare al 95% e questo è il concetto di hard immunity cioè se noi riusciamo ad avere una certa parte della popolazione già guarita che non è detto che debba essere tutta la popolazione perché e qui l'altro punto se invece l'R0 è piccolo come per esempio può essere e piccolo cosa vuol dire magari tra 1 e 2 come il caso di influenza tipicamente allora basta vaccinare relativamente poche persone tipo ok R02 è facile basta vaccinare il 50% della popolazione e gli altri 50 non si ammalano allora la domanda diventa qual è questo valore di soglia di hard immunity per per il covid considerando che non abbiamo il vaccino ancora quindi qual è il modo per raggiungerlo beh l'altro modo per raggiungerlo è far ammalare le persone cioè quello che ti dice anche questo modello è che dopo che si sono ammalate 1-1 su R0 persone l'epidemia inizia a declinare ma non significa poi anche lì c'è questo discorso dell'overshooting non è che si ferma lì non è che l'epidemia sfinisce cioè quando tu fai partire l'epidemia significa solo che quando Gianluca sei minuti no stavo dicendo scusami non è che c'è un manettino per cui giri on e off no ti sto solo dicendo quando arriverai ad aver infettato quel numero 1-1 su R0 allora l'epidemia inizierà a scendere ok però continuerà a scendere cosa vuol dire che il numero di nuovi infetti diminuisce ma non che improvvisamente non si ammalano nessuno se ne ammalano sempre meno finché alla fine si arriva alla fine ok questo è tutto molto bello cioè è bello perché il SIR questo modello è molto elegante molto semplice ma al suo tempo complesso ma è troppo semplice cioè ovviamente si basa su tutta una serie di assunzioni questi risultati che in molti casi non sono realistiche allora una delle assunzioni principali che fa il SIR è che la popolazione sia cosiddetta in homogenous mixing cioè che tutti sono in contatto con tutti che io un po' se guardiamo la nostra piattaforma diciamo che la probabilità che due persone in Italia si possano incontrare infettarsi sia uguale e sia indipendentemente dal fatto che io vivo a Torino e quest'altra persona vive a Palermo cioè si mettono tutte le persone dentro un unico calderone e si dice ok questo è il SIR per l'Italia ci sono 60 milioni di persone tutte si possono ammalare tutti si si possono incontrare allora questo è veramente un'approssimazione super grezza cioè assolutamente non realistica ed è diciamo anche lì uno dei problemi per cui in molti casi all'inizio della pandemia qualcuno giustamente poteva dire eh no ma i modelli epidemici sono sbagliati no è chiaro che se tu pensi di modellizzare l'epidemia in Italia con un SIR con 60 milioni di persone e no mi dispiace cioè non si fa così nel senso non è 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 si può fare il SIR funziona bene quando prendi appunto delle delle luoghi relativamente piccoli a punto di vista spaziale poi l'altra cosa è che appunto non è solo appunto la dimensione ma proprio come avendo i contatti e allora qui entra in gioco un'altra cosa che si sa se si è scoperto questo appunto la ricerca epidemiologica è andata avanti da 1927 a oggi e quindi questo è un po' anche l'altro epidemiologica matematica e l'altra cosa è che modelli più realistici descrivono le interazioni tra le persone e i contatti con delle diciamo formule delle espressioni matematiche che sono tipicamente eterogene e qui entra in gioco questo discorso della eterogeneità ecco spiegaci un po' bene questa cosa che diventa un po' l'argomento allora cioè la comunità scientifica in generale ci siamo resi conto che questa previsione fatta dal SIR cioè che dobbiamo vaccinare o dobbiamo diciamo la soglia si raggiunge facendo questa formuletta 1-1 su R0 è valida ma solo in una forma molto approssimata appunto in contesti molto approssimati è vero che diciamo è un ballpark ci dà un ordine di grandezza cioè ci puoi dire guarda per il morbillo c'è poco da fare il morbillo è molto trasmissibile devi vaccinare più del 90% della popolazione non esci così però non è adattabile a tutti i contesti e non tiene conto di un fattore importante che è l'eterogenità dei contatti cioè il fatto che questo R0 in realtà è un numero che però semplifica troppo le cose soprattutto nel caso di un covid come abbiamo visto perché ci sono le persone non sono tutte uguali non sono tutte uguali per il numero di contatti che fanno non sono tutte uguali per la loro sensibilità la cosiddetta suscettibilità al virus c'è eterogenità nella popolazione mentre il SIR il modello SIR assume che tutti siano uguali di fatto la fine è la cosa abbiamo mille milioni 60 milioni di persone sono tutte identiche non riusciamo a distinguere noi sappiamo bene che nella realtà ci sono delle differenze sostanziali nel comportamento delle persone quindi per esempio l'eterogenità dei contatti è una cosa importante i contatti che le persone fanno sono molto diversi ci sono persone che fanno pochi contatti ce ne sono altre che ne fanno tantissimi per il lavoro che fanno per la vita che fanno ci sono queste varie azioni questa eterogenità allora quello che si è capito da un punto di vista diciamo di analisi matematiche ma diciamo è una conoscenza consolidata questa nell'epidemiologia matematica sono cose che si sanno da da vent'anni e più ormai che se uno tiene conto dell'eterogenità dei contatti e di questa eterogenità della popolazione allora questa herd immunity threshold si può raggiungere anche con valori più bassi di infezione tenendo conto dell'eterogenità anche proprio una possibile eterogenità alla suscettibilità del virus eccetera cioè le previsioni del SIR possono cambiare da questo punto di vista e possono ridurre questo ecco io su questa roba qua Michele sono molto scettico se posso posso dirti perché? sì certo dimmi dimmi così mi dici se sbaglio perché quello che tu hai appena detto presuppone l'isteresi del contact network cioè la soglia diventa più bassa e rimane più bassa solo se quel contact network lì non cambia mai no certo cioè quella è una grande approssimazione anche ovviamente che si fa in questo caso perché cioè tu puoi dire questi qui io vedo 20 tu vedi 10 contatti al giorno ma quella per dire che la soglia di immunità è cambiata ed è cambiata per sempre presuppone che io e te continuiamo a vedere io 20 tu 10 no ma poi la soglia cioè la soglia di immunità anche lì bisogna rendersi conto cioè allora cosa intendiamo cioè quello che ci quello tipicamente che il risultato principale di questo che è cioè di questa eterogenità è che se tu riesci a vaccinare le persone con maggiori contatti in maniera mirata allora riesci a ottenere prima l'immunità di greggio perché poi alla fine è quello il risultato cioè non è che è una percentuale cioè tu otteni l'immunità di greggio con una percentuale più bassa ma mirata cioè perché stai perché perché riesci a a mettere nel compartimento dei guariti le persone le persone che sono gli hub i cosiddetti cioè quelli che sono più responsabili dello spread no allora con questo esercizio tu puoi dire guarda abbiamo bisogno allora un altro ragionamento che uno può fare è dire guarda che dato che queste persone tendenzialmente si infettano prima allora anche lì riesci ad ottenere dato che hanno molti contatti riesci a tenere più rapidamente l'immunità di greggio ora però anche lì tutto questo facendo forti approssimazioni cioè è vero che hai incluso un fattore realistico che è questa eterogeneità che nel nel SIR non c'è ma allo stesso tempo se per esempio non stai tenendo conto del fatto che la network di contatti delle persone è una network che evolve nel tempo non è statica non è che tutti i giorni io vedo sempre gli stessi cioè è certo ma avevo anche un'altra domanda per te sulla metodologia di quel perché io l'ho visti un po' di peper e gli ho letto quello che mi sembrava un po' almeno criticabile era che non sempre avessero una base biologica sotto cioè questo discorso no certo questa è una cosa che ho detto anche con con Aureliano cioè mi sembrava perché sembra importante il punto fondamentale è quando lo applichi a una malattia specifica cioè la grande differenza è cioè la grande differenza è la come dire lo studio che diciamo lo studio modellistico matematico che descrive un effetto diciamo delle assunzioni che uno fa quindi uno dice ok simulo cioè studio la diffusione di un processo epidemico su una rete di una netta rete di contatti astratta questa rete di contatti può essere caratterizzata da una maggiore o minore eterogenità che poi alla fine significa una diversa in forma della distribuzione dei contatti del cosiddetto degree di questa rete allora osservo dei risultati e questo ha un suo valore diciamo teorico fondazionale cioè ho imparato appunto a un punto di vista concettuale cambia completamente la la scena un po' come il SIR cioè io avevamo come riferimento il SIR e qualcuno ti dice guarda il SIR non è che sia così realistico e se introduco questo questo concetto diverso il SIR cambia poi poi il discorso è dire ok adesso che cosa significa questo per covid e lì c'è un grosso salto cioè un enorme salto perché cioè io sono d'accordo in generale penso a parte premetto che io non ho lavorato su covid e questo tipo di problemi per cui appunto ho letto un po' di letteratura ma non sono coinvolto direttamente sulla ricerca in questo però una delle questioni che per me è importanti cioè comunque di cui tenere conto è il fatto che per me è abbastanza ovvio per chiunque lavori nella comunità è ovvio che il modello SIR e tutto quello che ne deriva è un'approssimazione e non va presa come ah la R di immunity threshold è 60% perché abbiamo detto che che l'R0 di di covid è 3 ok perché alla fine da lì viene il numero no questo numero dice ok l'R0 di covid è tra 2 e 3 allora abbiamo una cosa una herd immunity che si raggiunge tra 50 e 100% ok questo non è la verità o come dire una cosa evidente di per sé su cui tutti siamo d'accordo ma allo stesso tempo se tu vuoi dimostrare che questo valore è molto più basso perché in letteratura appunto quello che ci sono con gente che propone valori estremamente più bassi si parla del 20% no si parla anche del 5% cioè che poi a questo punto iniziano ad esserci delle domande ci sono delle situazioni allora allora lì a un certo punto però bisogna vedere iniziare a confrontarsi con con la biologia cioè bisogna andare un po' più a toccare il dato biologico cioè questa questa eterogenità di suscettibilità come da cosa è giustificata biologicamente e dove e dove sta dove è l'evidenza ci sono allora c'è stata molta discussione qui alla fine dopo lungo discorso arriviamo al punto iniziano a tua domanda allora perché le persone dovrebbero essere già immuni in parte per esempio al covid senza averlo preso qualcuno dice ok perché c'è questa immunità indotta da T-cells che sono diciamo memoria di altri coronavirus in realtà cioè perché sappiamo che SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia di coronavirus ci sono altri beta coronavirus virus umani che circolano nella popolazione senza fare grossi danni periodicamente non c'è il vaccino però ci ammaliamo prendiamo raffreddore allora la nostra poi i virus mutano quindi ci ammaliamo di nuovo però nel frattempo il nostro corpo ha sviluppato memoria del fatto che ha incontrato il virus e qui poi dovrete chiamare Aureliano a parlare di questo perché non è il mio campo però allora c'è questa residual immunity ma il punto diventa questa residual immunity veramente influisce sulla possibilità di trasmettere l'infezione o è piuttosto una residual immunity che funzionale me lo prendo e te non muori esatto e non andrò in trapintensiva e avrò dei sintomi di lieve allora sembra che il consenso in questo momento sia più su questa seconda ipotesi ma poi scusami Tom aggiungo l'unica cosa che mi sento di dire è il principio quello di che viene chiamato di immunità protettiva o funzionale non sterilizzante cioè sì non è che tu non te la prendi anche se fossero vere tutte quelle ipotesi esatto il concetto di immunità poi è un concetto complesso cioè abbiamo anche scherzato all'ultimo video l'abbiamo scherzato abbiamo detto ma dovete chiamarla proprio immunity anche questa qua poi la gente si confonde dai e le diamo magari come come insomma c'è la famosa barzeletta sull'immunologo immunology sì sì e allora la questione è che quella che si cerca di ottenere tramite il vaccino nel caso migliore è la sterilizing immunity cioè tu con quello non hai proprio il virus ti rimbalza cioè non lo vedi proprio ed è quello che si è ottenuto con i vaccini abbiamo il caso emblematico del vaiolo il vaiolo non esiste più perché si è immunizzata una percentuale della popolazione sufficiente in tutto il mondo perché appunto il vaiolo è sparito dalla faccia della terra perché l'R0 non era troppo alto prima cosa aveva un R0 sufficientemente alto ma non così alto per cui alla fine con una soglia ragionevole senza dover vaccinare il 100% della popolazione mondiale e ottenendo sterilizing immunity quindi immunità totale il virus non si diffonde più certo con altri con altri virus è molto difficile ottenere questo ripeto più alto il R0 più difficile in principio con SARS si potrebbe ottenere con SARS-CoV-2 ma il vaccino deve conferire sterilizing immunity e non è ovvio che come ottenerla perché la ricerca ovviamente corre a dei passi da gigante ma quello che è abbastanza chiaro è che T-cells non sono sterilizing immunity sono due cose diverse e nel meccanismo di diffusione difficilmente influiscono su quante persone veramente poi si possono ammalare è quello un po' il punto no Michele è quello lì è proprio il punto è proprio il punto un po' nel caso emblematico diciamo sempre per tonare è un'esperienza più diciamo su cui ho lavorato da vicino è il caso della pandemia H1N1 del 2009 allora nel 2009 c'è stata una pandemia di influenza di tipo H1N1 che è partita in Messico ad aprile del 2009 cioè in realtà ad aprile è stata scoperta era partita in Messico già a febbraio da aprile è diventata di dominio internazionale ed era ormai già arrivata in tutti i paesi del mondo allora in quel contesto lì solo poi molto posteriori un anno dopo fondamentalmente un anno e mezzo dopo facendo studi sierologici si è visto che in realtà c'era una pre-existing immunity cioè la pandemia il virus aveva infettato una popolazione inferiore a quella che ci si sarebbe attesi se tutti fossero stati suscettibili perché effettivamente in quel caso le classi di età più avanzate gli anziani risultavano protetti perché erano stati esposti alla coreana che era sempre un H1N1 allora il virus era diverso però adesso anche lì Aureliano farà un po' di filogenetica su no guarda ti dirò anche di più influenza però H1N1 sono comunque rappresentano due virus simili alla fine sono dello stesso tipo di influenza questo aveva lasciato un'immunità pregressa ma una vera immunità cioè lì gli anziani veramente avevano guarda ti dirò di più uno dei nostri miti il buon Fauci aveva scoperto che era successa la stessa cosa con la spagnola che infatti aveva infettato molto di più le corti più giovani perché c'era stata un'ampia campagna massiccia campagna di vaccinazione per corti un po' più anziani l'avevo scoperto leggendo il paper famoso di Fauci che effettivamente è successo allora il fatto che l'influenza cioè c'è questa differenza diciamo sostanziale su cui ci troviamo diciamo un po' uno dei nostri problemi direi questo questo è un commento che faccio in realtà da profano però cioè che abbiamo una pandemia di un coronavirus e non di un influenza eh certo perché cioè l'influenza è molto più studiata molto più conosciuta abbiamo già sviluppato vaccini contro influenza per diverse cioè nel 2009 è stato molto è stato rapido relativamente rapido sviluppare il vaccino per il coronavirus non si era ancora mai fatto non era mai stato necessario farlo per la SARS avevano iniziato a farlo poi alla fine hanno detto va bene non va la pena perché ormai la SARS è rientrata SARS-CoV-1 e in generale i meccanismi appunto di diffusione e tutte poi le conseguenze anche ovviamente cliniche del virus sono molto diverse da quelle di un influenza cioè questo ormai è evidente e quindi questo crea crea questa complessità livello di pre-existing immunity cioè la verità è che penso che sia abbastanza ragionevole assumere che nella popolazione non c'era pre-existing immunity a gennaio del 2020 da nessuna parte del mondo cioè penso che sia assolutamente ragionevole dire e pensare che poi aspetto di essere smentito però che ci fossero già gruppi o popolazioni immuni per la presenza di anticorpi di altri coronavirus quindi per proprio persone gruppi di persone che non hanno partecipato alla dinamica di trasmissione perché è quello che significa dire ok cioè intesa in quel senso l'immunità che significa sei nei guariti e non partecipare alla trasmissione sei escluso da quella ora come ora è chiaro che con la prima ondata che abbiamo visto in vari paesi europei un certo livello di herd immunity si è creata cioè è ovvio che avere il 5% della popolazione già infetta che sono i numeri più o meno che vediamo poi in alcune che variano da regione a regione crea un certo livello di herd immunity cioè c'è una parte della popolazione che ormai si spera non partecipa più alla al circo al circolo della trasmissione del virus ma è assai lo vedo con grande scetticismo l'idea che queste percentuali siano sufficienti a ridurre l'epidemia e a me cioè e se anche come dire la cosiddetta herd immunity threshold non sarà il 60% ma vogliamo che sia il 30% va bene io sono pronto a crederci cioè non è non lo vedo come una percentuale così cioè come dire ci può stare se qualcuno me lo dimostra non ho fatto io i conti quindi ma comunque andiamo a vedere cosa significa infettare il 30% della popolazione scusami scusami Michele l'ho scritto anche in un tanto tempo fa quelli che dicono che è il 20% diciamo che è il 20% no? cioè stanno dicendo che dobbiamo andare full New York o full Bergamo no esatto perché è quello al 20% quello diventa il punto cioè ok va bene è il 30% e allora quindi il risultato è che dobbiamo andare tranquilli ad accettare che possiamo fatto benissimo soprattutto a ricordare che quel concetto lì di Erd-Muty è collegato in maniera indissolubile con l'idea della vaccinazione cioè pensare che che l'altro metodo proprio di lasciare che le persone si infettino e si ammalino mi sembra mi sembra che diciamo non lo so ecco per la società in cui la scienza del vaccino da mostrato come quello sia effettivamente poi la cosa da sperarsi che arrivi in fretta cioè il vaccino faccio cioè ci sono virus per cui questo diciamo succede nel senso che forse sempre su su Twitter o su Facebook citavo l'esempio della varicella cioè per la varicella esiste un vaccino ma le coperture vaccinali sono molto basse cosa succede che cioè lì la varicella fa outbreak epidemie nelle corti più giovani nei bambini che sono ovviamente suscettibili e questa è un'altra differenza qui aggiungo un altro dettaglio il modello SIR non considera una dinamica demografica quindi l'idea che ci sono sempre nuovi suscettibili che arrivano perché nascono però questo in realtà questo meccanismo della dinamica demografica è quello che mantiene in vita le epidemie come la varicella la varicella rimane in circolo perché arrivano sempre nuovi suscettibili che sono appunto bambini che non hanno ancora visto il virus ok si ammalano si prendono la varicella le conseguenze non è un virus che ha delle conseguenze gravi a meno che appunto nemmeno le persone veramente più a rischio immunodepresse però in generale è una un'infezione con un decorso benigno si crea herd immunity perché a quel punto lì se varicella ha un R0 appunto tipo di 13 appena arriva in una scuola in una classe tutti si la prendono fatta un due settimane di varicella finito non si diffonde più e poi appunto gli adulti potranno avere il problema appunto dell'herpes zoster quello è una delle conseguenze più sgradevoli però tipicamente siamo immunizzati e si portano questa immunità per tutta la vita e non puoi non puoi più rifarla allora quello è un virus su cui puoi dire va bene cioè facciamo lavorare l'herd immunity su un virus come SARS-CoV-2 diciamo e penso che sia ancora abbastanza discutibile ovviamente poi sappiamo che ci sono appunto le teorie di chi vuole dire no raggiungiamo l'immunità sulle popolazioni sappiamo che la popolazione la popolazione non è ugualmente a rischio per fasce d'età sappiamo perfettamente che il decorso del covid è tendenzialmente molto benigno nelle fasce d'età più giovani è tendenzialmente molto più grave e rapidamente cresce la gravità nelle fasce più più anziane allora lì qualcuno dice no vabbè l'herd immunity la otteniamo facendo infettare solo i più giovani eh good luck with that cioè questo questo è non lo so è un cioè è un bel sogno penso però cioè alla prova dei fatti io credo che l'evidenza di tutto quello che è stato negli ultimi quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è che questa cosa è molto bella a parole ma nella pratica è difficilissima da ottenere perché separare in compartimenti stagni le persone per classi di rischio in base all'età e impedire che avvengano i contatti cioè noi sappiamo per esempio dell'RSA del problema tremendo della tragedia avvenuta nell'RSA in Italia ma ancora adesso si legge comunque che c'è un focolaio magari in un RSA da una parte o dall'altra perché ma poi scusami Michele scusami usando la tua mappa di oggi no? sì esatto facciamo un esempio così mettiamo che tutta l'Italia è già alla meno quattro regioni dove hai messo quelli sopra i 65 anni perché li hai chiusi lì hai alzato un muro da 142 metri dove non passa nessuno e c'è Thomas su una torre che tira i giovani che arrivano lì e fuori da lì è tutto giallo no? per eventi con due persone però non con 10.000 è tutto giallo perché sono tutti infettati cioè tu mi devi spiegare se Thomas sbaglia un tiro no? e non uccide prima di far entrare dentro il muro lì cosa succede in una popolazione di totalmente suscettivi al rischio una volta che ti scappa via una roba cioè che poi è un trend che ha fatto è una adesso io ho detto una detta ridicola ha fatto un trend su questo ma fai questo esempio però secondo me è ragionevole di dire l'esempio è questo cioè noi cioè non vogliamo il lockdown ma allo stesso tempo dico perché l'alternativa deve essere il lockdown solo di alcune categorie certo noi non vogliamo il lockdown di tutti perché però allora quello che dobbiamo fare però è mettere il lockdown e gli anziani non possono più uscire di casa no io vorrei che tutti potessero uscire di casa inclusi anche gli anziani però tutti con un livello omogeneo di comportamenti protettivi non gli anziani che sono stati in casa e gli altri che è così e qualcuno dirà no ma è per poco tempo l'epidemia ha fatto no ma anche perché cioè ci sono lo diciamo sempre ci sono esempi di strati dove le cose sono state fatte bene pensate bene dove la popolazione è committed esatto cioè funziona esatto dove non c'è non c'è non c'è il lockdown permanente cioè le persone fanno una vita normale ma guarda è questa dicotomia no lockdown tutto bianco tutto nero lockdown o tutti fuori che non si riesce a far capire a far passare sarà anche colpa nostra che quello che devi fare è cercare di mantenere un livello di community community transmission basso che vale per le scuole i vecchi tutto vale per tutto vale per tutto sì sì non ci sono non ci sono posti diversi ma è perché perché pensare di differenziare è alla fine wishful thinking wishful thinking cioè è questo di cui stiamo parlando e poi dopo devo dire che ha fatto una cosa che non riesco più a trovare Timothy Gowers che è una medaglia field che ha fatto vedere come cambiano le probabilità di infezione di quelli nel muro cioè degli isolati quelli che ha fatto vedere come cambia la probabilità di quelli dentro il muro se il virus circola alto fuori dal muro e ovviamente come cambia cambia come cambia nella tua mappa no Michele in maniera totalmente geometrica per cui alla fine cioè questa cosa qua fa un po' ridere primo perché nessuna economia è organizzata per funzionare così cioè con un clustering per età cioè non siamo organizzati così no semplicemente e la seconda è che se per caso ti scappa l'errore il famoso error term cioè ha una conseguenza dentro quel gruppo lì cioè tipo muoiono tutti perché ha capito no non lo so mi sembra che il wishful thinking per me di pensare che viviamo in una società dove ci sono pochissimi anziani metti due anziani di cui uno uno sciamano no prendiamo una tribù hai capito quindi tu mi dici vabbè lo sciamano lo teniamo là quattro mesi in casa sì sì ascolta mi ho dentro una caverna dove lui fa delle predizioni che invece di usare un modello siro tira le pietre moderne sono generalmente vecchie generalmente le persone di una certa età hanno anche ruoli di responsabilità più importanti di quelle giovani sì abbiamo visto è la cosa che c'è giusto la settimana scorsa qualcuno diciamo non propriamente giovane si è ammalato in un evento dentro fuori qualcuno con un ruolo di responsabilità vabbè miglioreremo nel spiegare questa cosa tra l'altro scusami uno dei primi studi uno dei primi studi perché anche lì io e Thomas stavamo scrivendo sto cacchio di peper poi non l'abbiamo però uno dei primi studi sull'ICU fatto da Cecconi Zangrillo tutti gli intensivisti i famosi 1591 casi il primo era uscito a aprile il 60% della gente in ICU aveva meno di 60 anni ora se tu mandi fuori il virus e lo fai infettare come dicono questi qua tutti e tieni come vincolo il vincolo ospedaliero dell'ICU posto che sia una cosa eticamente e anche clinicamente accettabile ma facciamo finita che facciamo il giochino aritmetico e tu vuoi tenere come vincolo l'ICU presenti in Italia facciamo 10.000 ho visto il tempo medio di management di un malato in ICU che è 10-12 giorni cioè anche usando quelli sotto i 60 anni che ci sono in Italia forse ci metti due anni a far passare tutti dentro capito nel giro dell'air immunity che peraltro Michele scusami non sappiamo neanche se esiste perché bisognerà vedere poi se tengono le risposte anticorpali a un coronavirus ma io ovviamente mettiamoci io voglio essere molto ottimista c'è il vaccino il vaccino darà una risposta morale sufficiente per dare un'immunità sufficiente però avevamo fatto il calcolo con Thomas guardando anche quel calcolo che hanno fatto i tedeschi perché prima a fare il calcolo cioè i primi insieme a Ferguson e gli altri a fare il calcolo tenendo abbiamo detto va bene forziamo il vincolo di ICU occupazione dell'ICU quanto ci mettiamo dato un certo pezzetto di permanenza in ICU una percentuale che va in ICU sotto i 60 anni quanto ci mettiamo a far passare tutti dentro nel giro dell'immunità è un anno e mezzo due è un numero che è ingestibile no? Cosa fai? C'è una dinamica delle infezioni che l'infezione dura 7-8 giorni capito è chiaro non è non è così rapida c'è un altro diciamo anche lì se vogliamo fare un altro commento rispetto all'influenza il covid cioè l'influenza è veramente breve cioè l'influenza appunto in periodo di infettività dura 3 giorni pre sintomi un giorno ma in meno di una settimana ti passa a parte casi un po' più sfortunati magari però è molto più rapido qui il livello di in generale di cioè la durata in generale del decorso della malattia è molto lungo molto quindi va bene va bene ringraziamo Michele grazie mille grazie mille è sempre molto interessante grazie grazie mille a voi spambiamo un po' la tua mappa più che si può sì cercando sperando che tutto regga adesso devo andare a Roma adesso mi guardo che rischio cioè con quanti mi posso assembrare in Parlamento devi andare in Parlamento no guarda là no ti ringrazio ma magari no no perché lì ho visto che anche lì c'è un cluster adesso in Parlamento siamo scesi cioè siamo scesi a 400 per 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 la quarantena sì in effetti magari quello potrebbe essere un effetto positivo del co vabbè niente ciao a tutti ciao